Potete risparmiare tantissimi soldi sui pacchetti, sulle ricariche del portafoglio, sui giochi di tutte le piattaforme del gioco e su altri servizi sempre scontati acquistando su Instant Gaming tramite il mio link nella descrizione, come ad esempio una ricarica del portafoglio di Playstation da 75€ al prezzo di 60,19€ col 20% di sconto. Ci sarà un valido motivo per cui vendo tutta la mia Serie A e tengo solamente la Premier League. Nell'arco di queste due settimane che ho acquistato FIFA ho avuto due rose, la Serie A e la Premier League, ma ora Orchetti è giunto il momento di vendere la rosa che uso di meno per acquistare uno dei top player mondiali di calcio. Stiamo parlando di Holland, 88 di overall, costa poco meno di 200.000 crediti, come bene potete vedere ho venduto tutti i giocatori della rosa della Serie A che avevo. Tra l'altro Orchetti ho scelto anche un momento migliore per venderli visto che li ho pagati ad un prezzo e alcuni li ho rivenduti ad un prezzo superiore, quindi davvero tanta roba. Voi direte come ho fatto a comprare Holland che i crediti non mi bastano ancora? Perché ho sculato ancora Orchetti, mamma mia! E non avete idea di quanto sto sculando su FIFA Ultimate Team in queste due settimane che ho acquistato il gioco. Se pensavate che il video di ieri vi ha fatto vedere tutto quello che ho trovato di meglio nei pacchetti vi sbagliate di grosso perché sta per arrivare un'altra sculata incredibile. Tra l'altro se non avete ancora visto il video caricato ieri vi invito ad andarlo a guardare. Guardate l'Orchetti perché ho trovato Enriquein89, Verratti87, ho trovato altri giocatori di overall importante che non avete idea. Troverete il link di quel video nella descrizione di questo video. Ecco perché ho sculato Orchetti, perché ho acquistato un pacchetto con le stelle guadagnate dei momenti foot e ho trovato Ruben Dias Overall 88. Messo subito in vendita nel mercato a 23.500 crediti, l'hanno acquistato subito e subito ho raggiunto la cifra per acquistare Holland. Mamma mia, mi sono sentito gasato in quel momento perché non me lo sarei mai aspettato. Pensavo di dover aspettare prima di acquistare Holland e invece no, e invece mi sono sbagliato. Continuo a sculare e ho acquistato subito Holland. Signori, Holland benvenuto in squadra. Dopo aver acquistato Holland, avendo Holland tra i titolari nella rosa, ho voluto subito fare una partita per provarlo. Per vedere com'è in realtà, giocando a difficoltà campione in una partita delle squad battle. E Holland ha già subito segnato al suo esordio, facendo addirittura due gol, ottimi contrasti, recuperi. Pallone in rete, una giornata che non dimenticherà, debutto e gol. Holland Orchetti non è umano, Holland è un alieno. Holland è completo in tutto, ha un ottimo tiro, dribbla che è una meraviglia, è veloce e ha un'ottima accelerazione. È alto, quindi può tranquillamente colpire la palla di testa prima degli avversari. È abile, nonostante la sua stazza, infatti non lo sposti neanche a morire, volendo far fallo per fermarlo. È molto preciso nei passaggi e ha un tiro potentissimo, che se il portiere cerca di pararglielo, entra dentro alla porta anche lui insieme al pallone. Mamma mia, è devastante. Vale tutto il suo prezzo, assolutamente. E non vedo l'ora di giocare altre partite per testare ancora di più questo fenomeno in squadra. E niente Orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per diventare un Orchetto. In più, vi invito a seguirmi su Instagram, su Twitch e su tutti gli altri social. Troverete tutti i link nella descrizione. E da Orchoverde, tutt'ora ci vediamo al prossimo video. Bella!